Succede che il governo Schifani è inqualificabile, specialmente sulla gestione della sanità in Sicilia. Si dovrebbe concentrare su come eliminare le liste d'attesa, su come risolvere i problemi nei pronti soccorsi, sui medici che mancano, su quello che sta succedendo in giro nella Sicilia, sui tanti reparti che chiudono. Invece l'unico obiettivo del governo Schifani è quello di spartire le poltrone dei manager della sanità, una vera e propria lottizzazione per dare posti di sottogoverno. Io ritengo che questo sia assolutamente inqualificabile ed inaccettabile. Bisogna effettivamente mettere al centro quelle che sono le esigenze dei siciliani, mettere in queste strutture persone che siano capaci, in grado di traguardare e risolvere gli enormi obiettivi di un diritto, quello della sanità, che oggi viene negato ai siciliani. Allora a questo punto noi al Partito Democratico diciamo che il governo Schifani debba prendere consapevolezza degli enormi problemi che sta regando alla Sicilia, assumersi la responsabilità, fare un enorme bagno di umiltà e decidere di dimettersi. In Aula devo dire che c'è tutto e il contrario di tutto, una maggioranza che è assolutamente scoordinata in ogni documento che arriva e lo dimostrano le tante votazioni nelle quali va sotto nella finanziaria e in tante occasioni questo è avvenuto. Come sta avvenendo negli ultimi giorni sui tanti temi che vengono affrontati, come la questione del DL sulle province, sul DL assolutamente inaccettabile, sulla ineleggibilità di alcuni deputati regionali dove vorrebbero cambiare le regole del gioco. Ebbene c'è una maggioranza di governo che non sa in quale direzione deve andare e in tutto questo mette in una grave situazione di pregiudizio tutti i siciliani che vorrebbero risolvere i loro problemi e non andare dietro alle beghe politiche della maggioranza del governo Schifani.